Ormai gli appelli si stanno moltiplicando, persino i tedeschi cercano di far capire all'Unione Europea che questa loro maniacale politica green può costare cara, carissima in termini economici. Il rapporto arriva da Allianz Trade, quindi stiamo parlando della compagnia del gruppo Allianz, leader mondiale nell'assicurazione del credito. In altre parole, insomma, tanto per capirci, stiamo parlando della compagnia che detiene il 35% del mercato mondiale delle assicurazioni del credito, una compagnia che assicura transazioni commerciali per quasi mille miliardi di euro. Quindi, insomma, sull'attendibilità di tale report non ci sono dubbi di sorta. E allora, andiamo a vedere cosa ci dice Allianz Trade. Ebbene, il rapporto pubblicato si intitola La sfida cinese all'industria automobilistica europea. In questo report Allianz Trade ci mette in guardia sulle possibili drammatiche conseguenze che si potranno avere dalla prospettata elettrificazione del settore automobilistico europeo. Conseguenze di carattere economico, come detto, ma anche se non soprattutto di carattere sociale. Il pericolo si chiama Cina. Occorre riconoscere, infatti, che i veicoli elettrici di fabbricazione cinese già ora hanno, soprattutto in alcuni settori, vantaggi competitivi ed è possibile che siano anche destinati a diventare ancora più concorrenziali nei confronti anche dei più prestigiosi marchi europei. Tradotto in numeri, Allianz Trade calcola in 7 miliardi di euro all'anno i possibili mancati profitti per le case automobilistiche europee. Una cifra spaventosa che possiamo tradurre poi in una perdita esorbitante di posti di lavoro. Ricordiamo, infatti, che il settore automobilistico, nonostante la continua automazione, però garantisce ancora un numero molto importante di posti di lavoro. Quindi il colosso assicurativo tedesco lancia un monito. Qualora l'Unione Europea non imponga dazi sull'importazione di auto elettriche cinesi, è molto probabile che il Dragone possa assicurarsi un'importante fetta di mercato nel vecchio continente. E naturalmente, forse, l'imporre dazi non sarà neppure sufficiente, perché occorreranno anche maggiori investimenti da parte delle più importanti case automobilistiche europee per recuperare competitività, e in particolare per quanto riguarda le batterie. Perché proprio le batterie? E perché per produrre le batterie si inquina molto. Lo so che è un paradosso, ma al momento questa è la verità. E dalla Cina di inquinare non gliene può fregare di meno, mentre per l'Europa ormai l'inquinamento, vabbè, sappiamo tutti, è diventato un tabù assoluto. E' chiaro che una ridotta competitività nei confronti della Cina produce due effetti, entrambi negativi. Da un lato i veicoli cinesi eroderanno quote del mercato automobilistico europeo, dall'altro l'Europa vedrà diminuire la quota di vendita dei nostri veicoli in Cina. Nel report di Allianz Trade, appunto, la compagnia tedesca calcola anche l'impatto che tutto ciò potrà comportare al PIL, a perlomeno dei paesi europei maggiormente dipendenti dal settore automobilistico, quindi insomma ci stiamo riferendo a Germania, alla Slovacchia, alla Repubblica Ceca. Ecco, per loro si prospetta una riduzione fra lo 0,3% e lo 0,4% del PIL. Insomma, c'era un... anzi, c'è un settore nel quale l'Europa primeggia, ossia il settore automobilistico. Quattro auto su cinque vendute in Europa sono assemblate localmente e l'Europa è anche la potenza mondiale, una potenza mondiale delle esportazioni nel settore, con il commercio di automobili che ha generato ogni anno tra i 70 e i 110 miliardi di euro di surplus commerciale. Insomma, per l'economia europea è una cifra esorbitante. Esorbitante. Ma ora rischiamo di perdere gran parte di questa leadership. Ma abbiamo parlato di Europa e di Cina, ma c'è un altro continente nel quale vengono prodotte automobili. E allora, come si stanno comportando gli Stati Uniti nei confronti di questa sfida planetaria? Ebbene, gli Stati Uniti si sono portati avanti. Con i dazzi, al solito. Sempre il report di Allianz Trade ci informa che gli Stati Uniti sono destinati a diventare un mercato molto più difficile da conquistare per i veicoli cinesi. Perché? È perché già dallo scorso agosto il governo ha approvato una legge che impone restrizioni per coloro che vogliono esportare i loro veicoli elettrici negli Stati Uniti. Questa legge, l'Inflation Reduction Act, impone che le auto vendute negli USA siano realizzate per il 50% con materie prime di origine locale. Pena l'esclusione dagli incentivi fino a 7.500 dollari. Ebbene, l'Unione Europea, invece di approvare una legge del genere, si è limitata, almeno per il momento, a protestare con l'amministrazione Biden per l'approvazione di una legge che di fatto limita la concorrenza. Ma le proteste al momento non hanno ottenuto alcun effetto. Quindi l'Europa, senza difese, è soggetta ad una doppia concorrenza. Da parte americana, al momento Tesla detiene in Europa il 20% del mercato delle auto completamente elettriche. E da parte cinese, come detto, in particolare per quanto riguarda le batterie. Insomma, si potrebbe arrivare al paradosso che le politiche talebane anti-inquinamento dell'Unione Europea vadano poi a favorire il Paese che maggiormente inquina al mondo.